Un saluto ai cittadini di Orta, voglio affrontare con voi un discorso riguardante una problematica abbastanza importante, che è quella dello sport e i giovani. Abbiamo due strutture di elevata caratura, di elevata importanza, che sono inutilizzati da anni, lo stadio dell'Ortese e il palazzetto dello sport, entrambi dichiarati inagibili e oggi veramente abbandonati a se stessi. Lo stadio dell'Ortese è veramente oggetto di continui atti di vandalismo, è in uno stadio di degrado pazzesco, l'altro giorno ho fatto un superluco all'esterno dello stadio, ci sono delle foto che mi sono state riportate, vedere quello stadio che è stato oggetto di un finanziamento in passato e che ha portato i cittadini di Orta a carcare un sogno, quella della squadra dell'Ortese nella loro città e vederlo infranto in così pochi anni, veramente un colpo al cuore. La stessa cosa del palazzetto dello sport, il palazzetto dello sport è una struttura che ha accolto delle discipline sportive che hanno visto i cittadini di Orta, la squadra dell'Ortese primeggiare, basta pensare alla paga a mano, basta pensare alla paga a volo, sono discipline che hanno una storia e una tradizione importantissima per quanto riguarda l'Ortese e vedere queste squadre costrette a dover salenare in altre città, ad avversa, fratta maggiore, con tutti i disagi che ciò crea anche per quanto riguarda il seguito di queste discipline da parte di cittadini di Orta, è veramente un peccato sia per l'attività sociale, anche per le attività sportive e per il coinvolgimento stesso dei cittadini al corredo delle squadre e delle discipline sportive di Orta. Entrambe le strutture possono essere riattivate, ovviamente non in tempi brevi e soprattutto non attraverso le casse comunali, che ovviamente voi sapete è di dominio pubblico che sono inevitabilmente di sesso finanziario, ma attraverso dei progetti di financing e di partenariato. Ci sono tanti soggetti privati, tanti impegnatori privati che hanno intenzione e voglia di voler investire nel territorio orta, il loro entusiasmo e la loro volontà può essere utile oggi all'amministrazione comunale per riattivare dei settori nevragici fondamentali, sia per riavvivare la vita sociale all'interno del paese e sia per riavvicinare i stessi cittadini di Orta a quelle che sono le strutture sportive e le discipline sportive di Orta. Lo stadio dell'ortese in particolare ha la parte esterna che potrebbe essere utilizzata anche per altri tipi di eventi, basti pensare alla possibilità di fare uno street food, ha la possibilità di organizzare anche un'attività commerciale all'esterno dello stadio stesso, sono tante attività che possono essere pertinenziali e conseguenziali alla riapertura dello stadio dell'ortese. Basti pensare anche al discorso turistico, ricettizio, quando vengono squadre di altri paesi nel territorio di Orta, se ci facciamo trovare punti, sia con strutture a baghiere, sia con strutture ricettizie, con strutture commerciali, non possiamo fare altro che portare ricchezza ai nostri cittadini anche attraverso l'afflusso di denaro che viene dall'attività sportiva, quindi così dal tifo di altre città e di altri paesi. Oltre a colorare anche l'intera cittadina, perché dove c'è sport c'è vita e dove c'è sport c'è la ripresa dell'attività sociale.